Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un problema comune che può colpire i vostri pomodori. Il marciume apicale. Partiamo col dire che ci sono alcune varietà di pomodoro che sono più predisposte al marciume apicale rispetto ad altre. Il marciume apicale è un problema comune che può rovinare il raccolto. Ma niente paura. Con un po' di conoscenza e impegno possiamo tenere alla larga questo fastidioso disturbo. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi e lasciare un like in modo da aiutarci a creare contenuti video come questo. Grazie mille e buona visione. Vediamo alcuni consigli chiave per evitarlo. Mantenere un pH del suolo ottimale. Per la maggior parte delle colture di pomodoro, il pH ideale del suolo si aggira tra 6 e i 6,5. Utilizzare concimi che apportino il giusto quantitativo di calcio in relazione alle esigenze della coltura e alle caratteristiche del terreno. In descrizione troverete i prodotti da utilizzare. Un altro consiglio è quello di evitare eccessi di azoto che possono ostacolare l'assorbimento del calcio. Garantire un'irrigazione regolare ed equilibrata. Evitare stress idrici e periodi di siccità prolungata. Seguendo questi consigli, i vostri pomodori saranno più forti e avranno meno problemi. Se avete domande, scrivete nei commenti. Iscriviti al canale per altri consigli utili. Grazie mille e al prossimo video.